Buongiorno a tutti, oggi è il 4 febbraio 2022. Testiamo le presenze dei consiglieri e l'autorizzazione alla registrazione. Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala, Consigliere Arrini, Consigliere Ferrandelli. Considerato che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione, si rinvia alla seconda convocazione alle ore 10. Grazie a tutti.